La moda italiana è da sempre un'icona globale, ammirata e imitata in tutto il mondo. Conosciuta per il suo stile elegante, sofisticato e raffinato, l'Italia ha dato vita a marchi e designer che hanno conquistato il cuore di milioni di persone. Le radici della moda italiana risalgono al Rinascimento, quando i mercanti fiorentini portavano tessuti pregiati e abiti lussuosi in tutta Europa. Ma è nel dopoguerra che l'Italia si afferma come potenza della moda, grazie all'abilità dei suoi artigiani e alla creatività dei suoi stilisti. Uno dei pilastri della moda italiana è la sartorialità, ovvero la produzione di abiti su misura e con materiali di alta qualità. Questa tradizione artigianale si riflette ancora oggi nelle collezioni di grandi marchi come Gucci, Prada e Armani. Ma non è solo la qualità dei materiali a rendere la moda italiana unica, è anche l'attenzione ai dettagli, il gusto per il bello e l'equilibrio tra tradizione e innovazione che caratterizzano ogni creazione italiana. I designer italiani sono maestri nell'unire il passato e il presente, creando capi senza tempo che si adattano a ogni epoca e cultura. La moda italiana è anche sinonimo di eleganza e glamour. Dai vestiti da sera alle borse e agli accessori, ogni pezzo è curato nei minimi dettagli per esaltare la bellezza e la femminilità di chi li indossa. Non è un caso che le celebrità di tutto il mondo scelgano spesso abiti italiani per gli eventi più importanti. Ma la moda italiana non è solo per le donne. Anche nell'abbigliamento maschile, l'Italia ha un ruolo di primo piano. Dai classici abiti sartoriali alle collezioni casual e sportive, l'uomo italiano è sempre impeccabile e alla moda. Inoltre, la moda italiana non si limita solo all'abbigliamento, ma si estende anche all'arredamento, al design e alla gastronomia. Tutti questi elementi si fondono per creare uno stile di vita unico e inconfondibile, che ha conquistato il mondo intero. In sintesi, la moda italiana è un'arte che si evolve costantemente, ma che non dimentica mai le sue radici e la sua identità. Un'icona globale che continua a ispirare e a stupire, rendendo l'Italia un paese amato e ammirato da tutti.